oggi fa un freddo mamma mia stamattina verso le 9 e un quarto il termometro dell'auto si ne va a tre tre gradi infatti sono tutto intasato questo è il solito studio ditele questo smeralda questo è il chroma key che poi il chroma key è un pannello verde che praticamente serve con un apposito software puoi ritagliare e metterci dietro lo scenario che ti pare e questo è il timer questo per le registrazioni questo è il monitor che se la videocamera che mi riprenderà detto sommato una videocamera piccolina però molto bello il nuovo cavalletto cosa manfrotto mi ricordo che erano i migliori non frotto costavano un sacco di soldi queste stanno facendo le prove della regia così vi faccio vedere un pochino diciamo manca la regia un giorno che adesso c'è un sacco di gente mi scoccia per un giorno che magari c'è poca gente filmerò anche la regia la console ma è piena di tasti tastini io stimolo la parte bambina che in me mi viene voglia di metterci in mano di calcare tutto altrimenti i bambini quando avevano un sacco di bottoni che viene voglia di pigiare così ciao fazzoletto in mano fazzoletto in mano